E' una vincente finale di stagione, quello della Serie B di Pallamano, che vede contrapposte due formazioni protagoniste dell'Area 9, l'Aretusa Siracusa e il Team Handball Alcamo. Sabato prossimo, 14 maggio alle 18, presso il Palatricomi di Rosolini, le due compagini siciliane che hanno dominato la classifica, finendo appaiata a 30 punti e che hanno superato in agilità le semifinali, si ritroveranno per gara 2, che potrebbe non essere la sfida finale. I favori del pronostico sono per l'Aretusa, che nell'andata ha avuto la meglio al Pallaverga di Alcamo in trasferta per 32 a 25. Ma non è detta l'ultima parola, la TH venderà la pelle a caro prezzo e nel caso in cui riuscisse a passare sul terreno dei locali per assegnare la promozione sarà necessaria gara 3, nuovamente in casa dell'Alcamo. Si prospetta dunque un secondo atto molto avvincente con i siracusani, che vogliono chiudere il discorso promozione da un lato e i trapanesi dall'altro, che cercheranno di ritornare lo sgarbo agli avversari. Una sfida che si potrà seguire a livello regionale sul canale 77 di Ciak Telesud in diretta sabato alle 18. L'incontro sarà diretto dalla coppia Bocchieri-Campailla con Ardente Delegato. E sempre di palla a mano sono stati assegnati i titoli regionali Under 17 maschili e femminili, rispettivamente all'Aretusa Siracusa e al Mat Troina. L'attività federale del Comitato Sicilia-FIG per la stagione 2021-2022 vedrà pure l'assegnazione della Coppa Sicilia per le formazioni maschili e femminili di Serie A2. Domenica 15 maggio al Pallavolcan di Aceriale si disputerà infine la Coppa Sicilia fra Ragusa, Palermo, Orlando, Enna e Mascaluccia. La finale si giocherà in serata.